Benvenuti ragazzi, buoni di questo nuovo video oggi siamo su PS e oggi sono da solo oggi giocheremo con la Juventus, forza Juve fino alla fine contro il Barcellona, quindi in pratica sarà Ronaldo contro Messi comunque ragazzi io vi consiglio questo videogioco per chi ha la PS4 perché lo trovate gratis e ha tutte le cose, questa qua sarebbe la versione light, è gratis e ha tutte le modalità disponibili, cambia solo che la telecronica è un po' smonca, è un po' ritardata per il resto niente di che, è tutto uguale, quindi ragazzi vi consiglio questo gioco c'è anche la modalità che puoi creare la tua squadra, quindi devi cercarti giocatori decenti io ce l'ho qua, io ce l'ho qua comunque la modalità, tipo Messi no Ronaldo non ce l'ho qua, è Dybala, sono messo abbastanza bene io non ho capito perché su questo gioco dicono che la Juventus è più scassa del Barcellona anche se non è vero, per me la Juventus è molto più forte del Barca ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli c'erano buone opzioni di passaggio Chiesa palla filtrante per Redseid dai fai Chiesa no comunque rega, purtroppo Juve è fuori dalla Champions, da tipo sabato ci sono rimasto malissimo, 3 a 2, stavano pure vinti la Juve aveva vinto la partita, solo che per colpa di quelle ragodi hanno dato i gol che vanno due punti in uno di quelli del il coso lì, com'è che si chiama, il robo giusto oddio il porto ecco e poi la Juve ha giocato meglio a parere meno fatemi sapere la vostra opinione invece qua sotto nei commenti va via in profondità ottima pressione la sua palla recuperata non appensierisce la difesa era entrato un attimo mio padre nella stanza pazzamatta ma come è quasi già la fine del primo tempo ma non durano niente vediamo ur il prossimo fallo non sarà perdonato e penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli cercare di farlo ragionare perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così joystick scarico ragazzi proprio lui è ritornato il joystick scarico dai porca vacca dai dai quindi se non mi avete sentito in quel momento non è per quello joystick scarico fine primo tempo 0 a 0 contro il top bar cacchetta allora allora vediamo cosa riusciamo a fare dai dai prendiamo sta palla facciamo un bel gol facciamo un bel gol così vinciamo faccio bella figura con la bella gente dai e niente oh non ce la oh ma cosa dici ma sei tarocchi regà ditemi se farlo eh giustamente giustamente calcio di punizione non l'ho manco toccato quel cristiano attenzione attenzione donna mia io ho cercato una testata quello lì nella vita reale sarebbe morto fai per il filtrante oh oh niente prima ho preso un colpo di tacco con Morata ho preso il palo tirato un bestemmian che l'hanno sentito pure gli extraterrestri con tanta facilità lungo passaggio in avanti dai regà dai ai 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 scatta verso il pallone oh ammazzatevi e niente dai passala di dietro bravo ok per Ramsey perchè ho detto Ramsey se è Ramsey dai sei anni per io ho cliccato x e ci ha messo sei anni per togliere la palla da piede dai boss anche te chi è questo Danilo sei anni per passarla ci metti dai dai oi ma cosa fai Ramsey ma ti ammazzo ma che problemi hai e questo è un passaggio quanto meno disponibile dai 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 lì dico ehm ehm che cosa devo fare alla fine ci metti a scelare l'atteggiamento offensivo la ricerca del risultato c'è ora devono avere solo fortuna meh bello storico però di parla bello Tiki-taka Tiki-taka ruba Armane 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 Morto Eh raga Spero che Probabilmente finisce 0-0 Cioè raga se guardate Quanto vanno veloci i secondi In queste partite Pensate What the fuck Ok 0-0 Fine Adesso visto che non la riusciamo a fare Sta Juve Barza Non riusciamo né a vincere né a perdere Cambiamo squadre Noi rimaniamo sempre con la Juve Ecco Noi rimaniamo con la Juve Invece gli avversari sono Il Bayer Manchen Conosciuto anche con Anzi no Che cazzo di E' stato per dire una scemenza E vai Sono più forti di noi In centrocampo e difesa E in attacco siamo pari Forse questa qua la riusciamo a portare a termine Cos'è sta musica? Bellissima Impressionante Ma telecronica Stai c'è la voce brutta Quindi zitta Zitta Telecronica Zitta Arroman Vai dai 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 Subito Mamma mia Attenzione Appena inizia la partita Federico chiesa un mostro Attenzione Mamma mia Che giocata impressionante Mamma mia Guarda lì Prende la palla Passaggio tattico a chiesa Spam Mamma mia Mamma mia Alla faccia che loro c'erano il centrocampo E la difesa più forti della nostra Addon 20 secondi iniziata la partita Già gol di chiesa Mamma mia Magica What the fuck Ma si è inciampato da solo Ma gli arbitri sono proprio smonchi Raga Oddio no Joystick non ti scaricare di nuovo Vai chiesa Ni 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 E niente Ho toccato la palla Deficiente Ed ecco che arriva Esagerè Bel gesto dell'ombrello La arbitri Deve fa Quadrato Bel gesto dell'ombrello Allora Io vado dietro Sempre così E niente Non ha servito A niente Andare indietro Ho fatto una scemenza Prova a scavalcare La difesa con il pallonetto No Che scatole però Cosa ha fatto poi Cosa ha fatto chiesa Madonna mia Scesni Dai 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 Un altro golasso Lasciamolo su altro golasso Ci Wow 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 Grande coordinazione e potenza Davvero un capolavoro Raga, FCB sta per fottiti Vi coglioni bastardi Mamma mia, mamma mia Dai, fuori ciò Bravo, Delicta Bravo, Delicta Dirone, due, due, da difesa Per provare a fare l'impresa Oddio Oh mio Dio Yes, yes, yes Yes Che te salta, Morata, però, se un titano non salti in mezzo metro, madonna Dai Eh, dai Sto per rompere le cuffie a metà La telecronaca è morta? Telecronaca è morta? Ah, eccola la telecronaca Te, Mori Ma, Mori Anche te No, il mio amico mi rompe le palle Dai Giù, giù, giù Occasione Arriva al cross di quadrato Brutto, brutto questa traversione Non strutta proprio il movimento di convegno Ottimo disimpegno Non 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 Mamma mia, fine primo tempo, 2-1 per la Juve, mamma mia Maronemi Che du cristo Tagli che da vinciamo questa, tagli che vinciamo, vai E' molto Se di me separa già, non lo roda Caracca, ma Deve se ne rasse Di due o tre colpi di scena La Juventus Conduce di un gol in una gara piuttosto equilibrata Tutto può Mori a mezzo tutti E non l'ho toccato Partiti Siamo già nella seconda Dai, non fatemi fare la figura del coglione Dai Dai Oh Adesso mi da il rosso, così Caso I gialli Vabbè Meglio da il rosso Yeah Con l'incredibile Con l'incredibile Che gol fantastico È impossibile fare pronostici in una partita così aperta e combattuta Traiettoria strepitosa Tecnicamente perfetto Non c'è che dire Ha messo la palla esattamente dove volete Cosa ha fatto precisamente? No, non ho capito E con questo segna una doppietta What the fuck Ma cos'è? Ma è una macchina da guerra Quel coso brutto Immortecci tu Artur Tu non dovevi fare farlo Anche se te l'ho detto io di farlo Però Non lo dovevi fare Perché c'è una stronzo Ha portato scompiglio C'è una difesa E' riuscito comunque a neutralizzarlo Mo' gli dà il rosso What the fuck Dai però Dai Dai che la dobbiamo vincere Perché l'ho gufata Ci sono rimasto di merda Mazzate Dai Pagato Troverò un modo per ereditare E metterci la musica del violino tristone